vai era un canale la moglie è un punto è la trotta non lo vale la città è che me ha che me ha era la moglie era della moglie era la trotta era la trotta era la trotta si dice va a te ando all'ospedale e ando alla trotta adesso lo faccio all'ospedale e io alla caserma per me arriva il panpoto ah? al panpoto e lo panpoto e lo spessano tutto quello che ci sta a dire se lo spessano e ci sparano il pugno e lo denunciamo? ah è muerto è muerto è e' erasera l'opediaro era il punto blu è il punto blu avia erasera l'opediaro e quando lo denunciaste tu? mi ha andato quanti anni mi ci chiedono ora? due quanti anni ti caderemo oggi? io due 18 18 ah! non mi ha avuto tutti veniva l'intervista parliamo di giro Dav, Dav, Dav Dav, Dav Dav, Dav